Elezioni intervista Gianluigi Conti, candidato sindaco della civica Lago di Lovere, lista della maggioranza uscente nel programma priorità, viabilità e parcheggi. Sta per cambiare volto la Perla Sebina, spiaggia pubblica di Sale Marasino, lavori di riqualificazione ormai a buon punto, si concluderanno a giugno. In Val Seriana i fine settimana iniziano ad animarsi di eventi e manifestazioni, ad Ardesio tornano gli artisti di strada, apparre la sagra degli gnocchi in cola. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Iniziamo con la cronaca. Incidente stradale con quattro feriti nella mattinata di oggi a San Giovanni Bianco. Lo scontro si è verificato intorno alle 8 sulla statale 470. L'incidente ha coinvolto due auto e una moto. Sono rimaste ferite tre donne di 28, 44 e 67 anni, oltre a un uomo di 66 anni. Sul posto per i soccorsi è stato inviato anche l'elicottero decollato da Bergamo. Sono intervenute anche l'automedica e tre ambulanze. Le persone ferite sono state trasportate all'ospedale di San Giovanni Bianco, al Papa Giovanni e alla Gavazzini di Bergamo, tutte in codice giallo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno, che dopo aver effettuato il soccorso tecnico delle persone coinvolte, hanno messo in sicurezza i mezzi. Intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi anche a Scanzorosciate. Una donna di 71 anni è caduta mentre si trovava in sella alla sua bicicletta nella zona collinare di via Sporla. Poco dopo le 10 sul posto sono scattati i soccorsi e Areu ha inviato un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Seriate. La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo al Papa Giovanni di Bergamo. Il forte temporale che ha colpito la Bergamasca nel pomeriggio ha causato danni e disagi, particolarmente colpita la zona della città e dell'Interland. Circa 40 interventi per le squadre dei vigili del fuoco di Bergamo impegnate in tutta la provincia per allagamenti, caduta alberi e vari soccorsi. Chiudiamo con la pagina dedicata alla cronaca, apriamo quella dedicata alle elezioni. Ben quattro liste in campo alle amministrative di Lovere. Lovere domani candida a sindaca Claudia Taccolini, Lovere per tutti punta su Davide Corti, Ferrari sindaco su Paolo Ferrari e Lago di Lovere su Gianluigi Conti. Questa sera puntiamo l'attenzione proprio su quest'ultima lista della maggioranza uscente. Il primo cittadino Alex Pennacchio non si ricandida e il gruppo ha deciso di puntare come abbiamo detto su Gianluigi Conti. Lo abbiamo intervistato. Alle elezioni amministrative di Lovere ancora in campo la lista civica Lago di Lovere. Il candidato sindaco è Gianluigi Conti perché questa decisione di candidarsi alle comunali. La vicinanza alle persone al mondo del sociale e del volontariato mi hanno fatto avvicinare al mondo e alla vita politica e sociale loverese. Dal 2009 al 2014 sono stato presidente dell'ORA, la società di gestione del porto turistico di Lovere, società partecipata dal comune di Lovere. Dal 2014 ad oggi sono capogruppo di maggioranza in consiglio comunale, consigliere delegato alle società partecipate e presidente della fondazione Beppina e Filippo Martinoli, Casa della Serenità Onlus. Quindi è stato un impegno importante dove l'impegno amministrativo si è sommato quello gestionale e operativo riguardo alla fondazione di cui adesso inizieranno i lavori per l'edificazione del nuovo palazzo Sereno. Mi candido sindaco del comune di Lovere. Insieme con un gruppo di amici competenti, capaci, saremo in grado di plasmare una Lovere dinamica, innovativa, coinvolgente, solidale e soprattutto inclusiva. Cosa possiamo dire invece sulla lista, sul gruppo che l'accompagna? Allora, la lista civica del Lago di Lovere è una lista civica da 20 anni, quindi non ci sono interessi di partiti, non ci sono simboli. La cosa che accomuna la nostra lista e fondante per la nostra lista è il programma. Nel programma troviamo una realizzazione di idee, di progetti con una visione del breve, medio e lungo periodo. Il gruppo, la nostra squadra, le 12 persone che abbiamo scelto come candidato, come candidati provengono da varie realtà, sia commerciali che imprenditoriali, che dal mondo scolastico. Quindi ragazzi giovani e anche persone più esperte, alcuni sono già nel gruppo del Lago da anni, altri sono nuovi, ma sicuramente tutti legati da uno spirito comune per raggiungere il benessere di Lovere e dei Loveresi. Passando al programma, quali sono le priorità? La priorità sicuramente è la viabilità. Abbiamo pensato di intervenire nella zona alta, nella viabilità alta e quindi con un raddoppio della galleria del santuario, intervento molto importante dal punto di vista strutturale, molto impegnativo e ovviamente ci saranno dei percorsi e tavoli di lavoro per avvicinare a questa problematica e cercare di risolverla. L'altro importante intervento che Lovere necessita è l'aumento dei parcheggi, dei posti auto. Con gli interventi che abbiamo fatto negli anni precedenti di miglioramento abbiamo realizzato tantissimi interventi, la gente viene all'Overe, la gente apprezza l'Overe, ma ovviamente dobbiamo dare anche posto e locazione per distribuire le auto sia dei residenti ma sia anche dei turisti. Restiamo sul Lago di Iseo ma cambiamo sponda, sta per cambiare volto, la Perla Sebina, spiaggia pubblica di sale Marasino. La riqualificazione è ormai a buon punto e si concluderà a giugno. Seppur leggermente frenati dal maltempo di questi giorni procedono i lavori per la riqualificazione della Perla Sebina, la spiaggia pubblica di sale Marasino. Le opere vedono un investimento di 370.000 euro e sono cofinanziate al 50% dall'amministrazione comunale e dalla regione Lombardia attraverso l'autorità di Baccino Lacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro. L'area era caratterizzata da alcune criticità, dalla mancata manutenzione dei manufatti che ha portato al loro deterioramento, alla presenza di attrezzature e locali non più idonei al loro utilizzo, come ad esempio i servizi igienici o i locali spogliatoi. L'obiettivo principale della riqualificazione è stato quello di provvedere alla sistemazione delle strutture deteriorate. I lavori sono partiti a fine 2023 e hanno riguardato diversi aspetti. Sulla gradinata a lago è stata eseguita una completa revisione di tutte le superfici in calcestruzzo, con la rimozione delle parti in distacco e il ripristino delle superfici con malte specifiche. Gli interventi sull'edificio esistente hanno portato al rifacimento dei sottoservizi e degli impianti elettrico, antincendio e idrico. Sono stati riposizionati i pavimenti, i servizi igienici, le docce e il magazzino. Sono stati ricavati un porticato per il ristoro degli utenti e un nuovo spazio fronte lago di 40 metri quadrati realizzato in carpenteria. Inoltre è stato rimodulato il vialetto di ingresso che scende dalla strada ex provinciale 510. I lavori termineranno entro la prima metà di giugno. La scuola è quasi al termine, ma ad Alzano Lombardo progetti speciali vedono impegnati in questo periodo gli alunni. L'istituto comprensivo punta sul teatro inclusivo e sul coro che sarà ospite anche alla casa di riposo. L'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Alzano Lombardo, protagonista di due appuntamenti, in modo diverso, possiamo dire, di fare scuola. Partiamo da questo teatro dell'inclusione, di cosa si tratta? Allora, il teatro dell'inclusione ha, in questi ultimi anni, è ormai una tradizione consolidata presso il nostro istituto. Nasce in effetti dalla collaborazione di diverse presenze molto importanti sul territorio, quindi nel corso degli anni abbiamo stretto queste alleanze e di anno in anno abbiamo migliorato, diciamo, questa iniziativa. Quest'anno verrà allestito il 28 di maggio Il mondo di Anna, che è uno spettacolo tratto dagli autori Verusca Mandelli e Marc Perna. È una storia di ragazzi, quindi riguarda un po' la preadolescenza e le diversità che vivono i ragazzi in questa loro fase piuttosto delicata della vita. Dicevo, nasce dalla collaborazione di diversi soggetti, perché in primis c'è l'istituto comprensivo con alcuni docenti che hanno messo in campo le loro competenze e credono fermamente in questo progetto. Il coro è mirato all'inclusione, quindi va a coinvolgere i ragazzini che hanno appunto diversità e particolarità. A volte vengono definite come fragilità, ma in questa occasione vengono viste piuttosto come delle risorse. Il coro Piccole Armonie sarà a sostegno anche del progetto, possiamo dire, appunto del teatro dell'inclusione. Faccio un attimo un escursus un po' storico del nostro coro, che è nato appunto otto anni fa. Il nostro è un coro, allora io do un taglio aggregativo a questo coro, nel senso che non facciamo una selezione delle voci. Chiunque vuole partecipare, che rientra nella fascia che va dalla seconda elementare fino alla prima media, può iscriversi. Ovviamente lavoro su degli obiettivi importanti come la postura, la capacità di ascoltare, di sapersi ascoltare e tutta una serie di altri obiettivi trasversali che hanno a che fare con il loro mondo interiore, in modo tale da poter far sì che poi loro possano esibirsi non solo all'interno delle mura scolastiche, ma di potersi anche aprire al territorio. Quindi abbiamo fatto esperienze di vario tipo, anche fuori dall'ambiente scolastico. E quest'anno ho proposto un obiettivo, secondo me, molto importante, che ha un alto valore sociale, che è quello di allietare con le loro voci un'oretta gli ospiti della Fondazione Zanchi. Devo ringraziare gli insegnanti perché veramente tutte queste attività possono essere svolte solo perché c'è un grande impegno da parte di molti docenti che davvero credono in queste attività e si spendono moltissimo al di là di quello che è il loro impegno più tradizionalmente didattico in classe. Questo è possibile anche perché c'è un'ottima collaborazione con l'amministrazione comunale che è sempre presente e costantemente ci supporta nelle nostre iniziative e che ringrazio. Quello che veramente apprezzo come dirigente è l'apertura della scuola al territorio e la risposta che il territorio ha nei nostri confronti. Per cui si possono davvero realizzare moltissime iniziative in collaborazione. Sabato a Pradalunga torna la festa dello sport, giunta alla sesta edizione con tutti i gruppi della Polisportiva in collaborazione con le scuole medie. Nuovo appuntamento con la festa dello sport di Pradalunga, sabato 25 maggio, una giornata dedicata alle attività sportive del vostro paese. La sesta edizione della festa dello sport qui a Pradalunga, organizzata dalla Polisportiva Pradalunghese e faranno parte tutti i gruppi della Polisportiva con la novità di quest'anno che ci sarà anche la collaborazione della scuola media con le attività all'interno del cortile della scuola media di Pallavolo, Salto in Lungo e Badminton. Quindi vi aspettiamo tutti quanti a questa festa di sabato 25 maggio dalle 14.30 in poi e ci sarà qui nel piazzale Donatori e Via Aldomoro tutte le attività ci saranno qui e tutti i ragazzi potranno provare qualsiasi tipo di sport. Inoltre la sera poi ci sarà anche un evento musicale con gli Acoustic Sound sperando che naturalmente il tempo sia dalla nostra parte. Come siete organizzati come attività sportive nel vostro paese? Come attività sportive siamo abbastanza organizzati con la presenza di molti gruppi che usano sia le palestre sia il campo di calcio e anche gli oratori. Come calcio abbiamo formato anche l'anno scorso la squadra di calcio dei giovanissimi e quest'anno ci sarà anche quella degli allievi e ci stiamo portando avanti per far rivivere di nuovo il nostro campo di calcio con la sua tribuna nuova. Per le altre attività calcio balilla, ping pong, pallavolo, yoga, Feldenkreis, Zumba e tante attività che si svolgono in palestra. Lo sport per la solidarietà sabato a Scanzo Rosciate è un trail di 100 chilometri per sostenere l'attività di un'associazione nata per fornire supporto ai pazienti affetti da una rara malattia cerebrovascolare. Sabato 25 maggio si disputa l'accento del Moia nell'ambito del Moia Moia Music Festival. che va a due eventi per sostenere l'associazione Amici del Moia Moia e partirei proprio dall'associazione, che cos'è, che cosa fa? L'associazione Moia Moia è una malattia, è una malattia rara, è una malattia che colpisce adulti e bambini, è una malattia che va a restringere le arterie e la base del cervello e di conseguenza porta a grave conseguenze come ictus e emorragie. L'associazione si occupa di sostenere tutti i pazienti e i loro parenti che arrivano da tutta Italia e anche dal resto del mondo in tutta la parte logistica, per cui dando loro supporto logistico in quanto abbiamo una casa che mettiamo a disposizione gratuitamente delle persone che hanno questa necessità. Come dicevi tu, stiamo facendo questa festa che dura dieci giorni e si chiama appunto Moia Moia Music Festival, dove si raccolgono fondi per poter ristrutturare la seconda casa di Monica, perché le necessità e le richieste di aiuto sono davvero in aumento. Ecco, dov'è questa casa? Questa casa si trova a 400 metri dall'ospedale, si trova al villaggio degli sposi, per cui è comodo anche per chi arriva da fuori e si sposta a piedi. Quindi sabato all'accento del Moia, come si svolge questo evento? Allora, saranno 100 chilometri che gireranno sui nostri monti, saranno 100 chilometri in versione trail, fatta da staffettisti, quindi piccole tappe da circa 15-20 chilometri ognuna. Ecco, la parte, i primi 90 chilometri sono appunto riservati agli staffettisti, chiamiamoli tesserati, ok, su invito, mentre gli ultimi 10 chilometri, quelli che partiranno dall'oratorio di Gavarno di Nembro e arriveranno fino a Scanzo Rosciate, saranno liberi a tutti. Tutti potranno partecipare tramite una veloce iscrizione, scannerizzando il QR code che si trova sui nostri canali social oppure direttamente sul sito dell'associazione, c'è la pagina dedicata e appunto, come dicevo prima, questi 10 chilometri saranno aperti a tutti, tutti potranno partecipare per arrivare all'area festa di Scanzo Rosciate, dove di nuovo torneremo a fare ringraziamenti, festa, musica e tutti assieme. E ci spostiamo in Alta Valseriana ad Ardesio nel fine settimana, una nuova edizione di Come d'Incanto, il Festival degli Artisti di Strada. Scopriamone di più. Gli artisti di strada tornano protagonisti ad Ardesio con una nuova edizione del Festival Come d'Incanto che è tornato l'anno scorso dopo qualche anno di pausa. Che cosa ci dobbiamo aspettare per questa edizione 2024? Ad Ardesio questo weekend torna in scena Come d'Incanto, è la dodicesima edizione e per quest'anno c'è una novità rispetto all'anno scorso, torniamo anche con gli spettacoli durante la giornata di sabato, quindi in serata dalle 20.30 ci saranno due spettacoli, uno appunto 20.30 e uno alle 21.30 e poi si riparte il giorno successivo con diverse iniziative. Il centro dell'Incanto è la mattina dalle 9 alle 12 con diverse proposte, truccabimbi, ludobus, letture animate, palloncini, caramelle, eccetera proprio per i più piccoli, mentre dalle 14.70 nel pomeriggio iniziano gli spettacoli, si esibiranno sei artisti, si parte con una parata che attraverserà il centro storico per proseguire poi con diversi spettacoli e la conclusione è la sera alle 21.30 con uno spettacolo di fuoco. Gli spettacoli sono vari, adatti a tutti, giocoleria, magia, gag, acrobatica, di, diciamo, sono un po' per tutti i gusti, anche bolle che attraggono sempre i più piccoli e gli spettacoli saranno, alcuni di questi saranno proposti anche più volte per dare la possibilità al pubblico di non perderseli, di poter girare e scoprire così anche il centro storico di Ardesio e in caso di maltempo il programma sarà, ci saremo comunque ma ci saranno sicuramente delle variazioni. Sapori di una volta e sport animeranno i prossimi sabati di Parre. Si parte il 25 con l'attesa sagra degli gnocchi in cola. Due sabati, due eventi in programma a Parre, entrambi organizzati dal Proloco. Si parte con la riscoperta dei sapori della tradizione. Sì, il primo sabato, cioè il 25 maggio organizzeremo la sagra degli gnocchi in cola, un evento che ormai si ripete da qualche anno in collaborazione con il gruppo folkloristico Lampiusa e l'oratorio una serata di festa a base di un famoso piatto dell'antichità, un piatto povero, che però sta riscuotendo un enorme successo. Qual è il menù della serata? Il menù della serata sarà ovviamente gnocchi in cola, che è un piatto tipico, preparato con farina, latte, burro, salvia e patate. In questo caso siano molto attenti anche alle intolleranze, infatti nel menù sarà servito anche gnocchi in cola, sia per celiaci, sia senza latticini. Oltre agli gnocchi, che fanno comunque come piatto principe, ci sarà il cervo, ci saranno le patatine, i nuggets e della porchetta al forno. E non mancherà l'intrattenimento? Assolutamente, alle 18 si inizia con l'aperitivo, alle 19 c'è l'apertura delle cucine e alle 21 circa saremo allietati dalla musica dell'orchestra Diego Zamboni, che ci farà ascoltare e ballare del buon liscio. Passiamo al sabato successivo, il primo giugno, un evento di diverso segno dedicato allo sport e al divertimento. Sì, il primo giugno ci sarà un'altra edizione del 12 ore a Parre, un evento creato per voler ricordare due persone a noi care che hanno destinato molto tempo al volontariato, come Corrado Poli e Lori Cossali. Si creerà un evento di 12 ore in cui si farà un torneo di acqua volley e uno di calcio a 7. Ci sono ancora pochi posti per le iscrizioni, quindi se ne avete bisogno contattate direttamente l'ufficio turistico che vi saprà dare informazioni. Velocemente il programma? Il programma si svolgerà dalle 9 di mattina, si inizieranno con le partite dei due sport, ci sarà cucina aperta tutto il giorno, la sera e quest'anno abbiamo unito anche il fluo party, quindi ci sarà da divertirsi per tutta sera anche con l'accompagnamento di DJ Max Bonetti. Siamo ormai alla fine, i programmi di Antenna 2, questa sera alle 20.10 l'Alpino, il notiziario dell'Associazione Nazionale Alpini, alle 20.25 promosserio eventi, alle 20.30 mai regione, la trasmissione dedicata all'attività di regione Lombardia, alle 21.20 mila giri, il programma sulla Formula 1, alle 21.35 lo sport con hard track, alle 22 mondo crociera, alle 22.30 la seconda edizione del telegiornale, alle 23.15 Antenna 2 sport, a mezzanotte e mezza la terza edizione del TG. L'Almanacco domani è giovedì 23 maggio, il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 21, la luna è piena, sorge alle 21.22 e tramonta alle 5.41 di venerdì. La chiesa ricorda San Desiderio. Ed è davvero tutto per questa edizione, vi ricordo dopo il telegiornale, l'appuntamento con il TG Sport e quindi le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per l'attenzione e buona serata.